La raccolta dei dati può essere usata per aiutare i cittadini. In Inghilterra abbiamo una società che ha fatto un ottimo lavoro ed è molto apprezzata. Io sono Giovanni Tonutti, sono un signor analyst policy in practice. Noi siamo una società inglese che dal 2013 aiuta l'amministrazione pubblica inglese a utilizzare i dati di cui i comuni e gli enti locali inglesi sono in possesso per migliorare l'offerta delle politiche pubbliche, specialmente nel campo delle politiche sociali e del welfare. Siamo degli esperti appunto nel campo e applichiamo il nostro know-how di policy all'analisi di dati e allo sviluppo anche di dei software specifici che aiutino i cittadini a navigare l'offerta delle politiche e dei servizi di welfare a livello locale. So che avete ottenuto degli ottimi risultati molto apprezzati dalla pubblica amministrazione. Come pensate di importare questo modello in Italia? Sì, da una prima analisi del mercato e anche del contesto italiano riscontriamo molte similarità con quelle che erano le problematiche in Inghilterra che continuiamo a cercare di risolvere. Quindi un sistema dell'assistenza sociale e del welfare molto complesso con difficoltà dal punto di vista sia degli enti locali che dei cittadini nel navigare questa complessità. Quindi la nostra intenzione è quella di applicare chiaramente con le dovute differenze e distinzioni il nostro modello operativo in Italia partendo appunto dalla collaborazione con degli enti locali italiani soprattutto nelle grandi città. Che cosa divide e differenzia voi da Cambridge Analytics che in questo momento è il simbolo del male come il grande fratello? Grazie per la domanda, è un'ottima domanda. In realtà è una risposta molto semplice ed è l'ottemperanza con quelle che sono le regolamentazioni e le norme previste sull'utilizzo dei dati. Da quasi un anno, poco meno di un anno in Europa è stata passata una normativa all'avanguardia per quanto riguarda appunto il trattamento dei dati personali che come conoscete GDPR. E questa normativa stabilisce in maniera molto chiara che tipo di accesso si può avere a che tipo di dati, che tipo di utilizzo e di trattamento si può fare di tali dati. Noi nel nostro piccolo in Inghilterra lavoriamo con dati che contengono informazioni personali ma che vengono condivisi con noi da parte degli enti locali che li collezionano. Questa trasmissione avviene attraverso un protocollo regolamentato in cui i dati vengono pseudo-anonimizzati per usare un termine tecnico in cui certi tipi di informazioni vengono rimossi e anche lo scopo e l'utilizzo stesso dei dati vengono stabiliti a priori prima di utilizzare e lanciarsi in qualsiasi tipo di analisi. Quindi se da un punto di vista dell'opinione pubblica il concetto di profilazione può sembrare così spaventoso e come una minaccia in realtà basta le misure per assicurarsi che ciò che non avvenga esistono e bisogna semplicemente attuarle e fare sì che effettivamente tutto questo aspetto della protezione dei dati venga attuato in ottemperanza con quelle che sono già le regolamentazioni presenti. Tra le varie slide mostrate nel convegno una aveva un titolo particolarmente forte preso da un giornale. In Italia il welfare è un casino e quindi chiediamo come si può cercare di trasformarlo in qualcosa di funzionante per i cittadini. Beh allora diciamo che ci sono due livelli di intervento. Uno sarebbe legislativo e di questo però noi non ci occupiamo, ovvero di semplificare la macchina appunto legislativa e semplificare. L'altro invece appunto è quello del casino se vogliamo andare a questo termine in cui ci troviamo a cercare di trovare un po' un bando della matassa e in questo caso il nostro esempio in Inghilterra fa vedere come la tecnologia applicata anche appunto all'analisi di dati pubblici possa essere d'aiuto. In Italia adesso ci stiamo muovendo soprattutto a livello di grande città, abbiamo avuto conversazioni qua con l'amministrazione di Roma Capitale ma anche a Milano per cercare appunto di stabilire una collaborazione e portare dei miglioramenti concreti a quella che è l'offerta sociale a livello locale. Grazie a tutti.